Grazie a tutti. In questi giorni abbiamo ascoltato un po' tutti per televisioni, per telegiornali, quella brutta vicenda che ha, diciamo, ha distrutto la vita di due, quindi, Alessio e Simone. Quindi io volevo fare un appello a spinta, così tutti quanti alzati facevamo un minuto di raccoglimento per far sentire la vicinanza del nostro comune di Casoria. Grazie. 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 Grazie.